Un giorno mia madre disse, filluolo mio, la Costituzione è stata scritta con il sangue degli italiani. È stata elaborata bene dai nostri nonni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma semplicemente non viene applicata ai tempi moderni. Inoltre, il caro Renzi non è stato eletto dai cittadini. Difatti, lui è una marionetta guidata da una banca americana chiamata J.P. Morgan. A cui non gli sta a genio il sistema italiano, perché lo ritiene troppo socialista. E poi, l'ultima volta che abbiamo votato per il cambiamento, non è andata molto bene, con il carissimo massone romano Prodi, che ebbe la geniale idea fallimentare di inventare l'euro, che ha portato alla rovina dell'economia ed il commercio. Infine, non c'è bisogno di modificare la Costituzione per fare nuove leggi e migliorare l'Italia. Non buttate via ciò che i nostri nonni hanno fatto per noi ed il nostro futuro. Vota no, figliolo mio.